Non so se vi è capitato di vederla questa immagine, a me ha colpito tremendamente il racconto poi che c'è sopra l'immagine che racconta quello che avviene, un soldato russo catturato dagli ucraini viene fatto rifocillare cotte caldo e qualcosa da mangiare, gli ucraini che lo hanno catturato, un soldato che sta invadendo la loro nazione, che sta contribuendo a quello che sta accadendo, viene rifocillato e gli viene fatto chiamare la madre per rassicurarla che lui sta bene. E' un'immagine che a me ha sciolto il cuore. Vi spiego anche il perché, ovviamente è l'immagine che mi ha colpito di più di questa guerra. Mi ha colpito perché credo che questa sia un'immagine universale. Quando dico che è un'immagine universale voglio dire che innanzitutto le espressioni delle persone sono universali e questa è una teoria ormai consolidata. E vedere quel soldato veramente contratto da fatica, dolore e commozione è un linguaggio che capisce chiunque. Anche in Papa Nuova Guinea, dove non c'è la televisione, non c'è il culto delle immagini, un perfetto tribale capirebbe che quella espressione sta segnalando un malessere d'animo enorme. Il racconto che c'è sopra, quello del fatto che tutti stanno rassicurando la madre del soldato, che è giovanissimo tra l'altro, come fa a non essere universale? Quest'immagine trasforma quel soldato, ma trasformerebbe qualunque essere umano, non più in un soldato, in un portatore di morte e di guerra, ma in un figlio. Cioè le mamme sono universali ragazzi, le mamme sono universali, le mamme sono incredibili. Come fai a non immedesimarti in qualche modo, se non riesci a immedesimarti a capire tutta quella situazione? Detto questo, è un'immagine che mi colpisce profondamente, anche perché secondo me la questione della madre che umanizza è stata utilizzata anche in un film che tutti condannano, parlano male di un film che si chiama Batman vs Superman, perché c'è una scena che trovano ridicola, quando Batman non uccide Superman, dopo averlo messo alle strette, perché Superman dice Marta, che è lo stesso nome della madre di Batman, la madre di Superman, di Batman si chiama allo stesso modo. Quando Superman in momento di morte invoca il nome della madre, Batman capisce che è umano, cioè è come se fosse la preoccupazione di una madre per il figlio, e il sentimento del figlio di prima madre è come se fossero veramente il linguaggio dell'umanità. Quindi come fa quell'immagine? È incredibile, io ho i brividi, ho i brividi, quando l'ho vista mi sono venuti i brividi.